Scegli una storia, osservala, guardala, incuriosisci di cosa parlerà questa storia, chi sono queste persone. Usa il tuo smartphone per ascoltare la storia. Il Drammatico, questa è la storia di due persone. Falta la storia che a volte ci mette il senso. Di cosa parla questa storia? Chi sono i protagonisti? Cosa succede nella storia? Colora e completa la mappa. Riascoltala ad occhi chiusi. Raccontala a modo tuo, con parole tue, preferibilmente a un amico. Questa è la storia di due persone che escono in barca. Sono molto diverse tra di loro. Parla in coro con l'audio della storia. Quest'uomo pratico, chiamiamolo Giuseppe, è alla guida di... Infatti, sta tenendo il timone. Sta a spostare. Divertiti! Con mappe e storie in italiano. 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 Con mappe e storie in italiano.